Qui siete? Da questo lato arrivano! E' arrivato il momento di entrare nella mente In my mind, no, in your mind E voglio sentire tremare il pavimento Ci prepariamo a saltare più che possiamo Perché questa è la musica che mi regala e ci regala DJ 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 Sta in questa la sua musica Di questo lungo, lunghissimo, subito, dell'Ueuvre E le mani, 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 le mani Guardi su! Grazie a tutti